Eravamo alloggiati in una casa piena di suoi seguaci, quelli che non erano stati arrestati. Lui l'avevano già fatto prigioniero. La mattina seguente lasciamo tutti la casa. Uno degli uomini, quello che mi viene a trovare tuttora, doveva seguire me e Maria. Percorremmo i vicoli. Finché ci troviamo in un vasto spiazzo pieno di gente. Vidi alzare altri croci, alle quali altri uomini vennero appesi, ma solo con semplici corde. L'osservavo tutto. Una nube che si gonfiava nel cielo, una pietra, un uomo davanti a me. Qualunque cosa mi togliesse dal supplizio. La mia guida aveva dentro di sé come una luce nuova. E questa luce fece sì che prima due stranei e poi altri, che lo sapevano un suo seguace, ci offrirono aiuto. Tramite loro riuscimmo a trovare l'imbarcazione che ci avrebbe portato a Efeso, dove ci aspettava questa casa sicura. Grazie. Grazie.